Ehi, come stai? Allora, come mai avete portato anche voi il nostro cagnolino qui? Bene, grazie. E tu? Tutto bene, tutto bene. Ma l'abbiamo portato qui perché ce l'ha consigliato un'amica. Sì, questa volta l'abbiamo portato anche noi qui. Sembra un bel posto. Speriamo tratteranno bene i nostri animali. Sono sicuro di sì. Chissà cosa faranno le nostre donne intanto. Ma secondo me stanno bevendo già il tè e fanno le chiacchiere. Sicuramente i loro discorsi da donne. Lo penso anch'io. Che bella questa piscina, vero Giulie? È veramente una piscina magnifica, hai ragione. Veramente bellissima e piace tanto ai nostri cuccioli. Cosa dici se facciamo il tè? Oh, un tè! Ci sta tantissimo! Chiediamo alla ragazza che fa la cameriera qua di portarci il tè. La chiami te, per favore, che io mi vergogno un po'. Certo, cameriera! Oh, mi hanno chiamato! Arrivo! Salve! Avevo sentito che qualcuno mi ha chiamata. Siete state voi? Oh sì, gentilissima! Avevamo bisogno di chiederle una cosa. Certo! Mi dica! Volevamo chiederle un succo rifrescante con due bicchieri e un po' di patatine. Le porto subito! Un momento! Qual è il tuo succo preferito, Giulie? Oh, il mio succo preferito è il mango! Anche il mio! Sì! Ma che ne dici che andiamo a fare un giro in questo megaparco? Mi sembra una buona idea. Mentre aspettiamo possiamo andare a vedere che c'è intorno. Sì, va bene, dai, andiamo, andiamo a vedere. Andiamo? Arrivo, arrivo! Eccomi, ragazze! Vi ho portato due succhi al mango, un po' di biscotti e un dolce speciale della casa a forma di un panda! Se gradite vi posso accompagnare nella sala relax così vi sedete e siete più comode a mangiare. Seguitemi, prego! E' tutto pronto! E' tutto pronto! Vado a controllare i cuccioli, signorine? Wow! Quanto è morbido questo divano! E' veramente una zona relax! Sì! Hai ragione! E' veramente molto morbido! Guardalo! E' tutto rosa! Ehi, cuccioli! State bene? Vedo che avete tantissimo caldo! Vado a riempirne il secchio d'acqua! Allora l'acqua! Eccomi qua! Siete pronti, cuccioloni? Mi dispiace, mi dispiace tanto! Vieni, ti do un po' d'acqua! Ma chi è là che sta arrivando? Come mi piace giocare qui! Lucy! Hai visto? Ci sono i cagnolini là! E' vero! Ci sono i cagnolini! Andiamo a giocare con loro! Ehi, ciao! Anch'io voglio! Giochiamo in acqua? Guarda questo! Com'è bello! Ah! Ah no! Oddio! Sono tutta bagnata! Aiuto! Ho perso la scarpa! Non la vedo perché è rosa come la pietra! Aiutatemi! Oh, ma hai sentito? Mi è sembrato c'è una bambina che piange! Sì! Sento da quella parte delle voci di una bambina che piange! Andiamo a vedere? Piccolina, che succede? Stai bene? Mi sono fatta male! E ho perso la scarpina nella piscina! Ed è una scarpina rosa! Non riesco a trovarla perché ci sono i sassolini rosa! Non ti preoccupare! L'importante è che stai bene! La scarpina la troviamo noi! Dove sarà? La vedi tu? No! Non vedo niente io! Forse è dietro con il cagnolino? Prova a spostarlo! Dai! Vediamo se è qui! No! Non c'è nemmeno qui! Ma forse ha quel cagnolino bianco che è in acqua! Vedete? Un po' paura! Oh, l'ho visto il cagnolone bianco! Ce l'ha lui! Guarda, guarda! Ehi cagnolino, vieni qui! Vieni! Vieni qui fa il bravo cagnolino! L'abbiamo trovata finalmente! Dai, portiamola alla bimba! Guarda che bravi che sono quei due ragazzi! Hanno aiutato la bambina! Sì, che bravi i nostri ragazzi! Andiamo da loro, dai! Basta mangiare! Eccola qua, la tua scartina! Tienila! Grazie mille! Mi piace... Oddio! Adesso chiamo la mamma! Grazie mille che avete aiutato la mia figlia! E che ero andata un attimo via! Prego! Noi andiamo! E buona giornata e buon proseguimento in questo fantastico parco! Sì, sì! E il mio ragazzo è sempre pronto ad aiutare persone! Oh! E il mio invece è molto molto forte! Oh! Sì, ho notato che sono bravissimi! Grazie, grazie ragazzi! Noi andiamo a casa! Ciao! Andiamo tesoro! Andiamo a casa a fare la merenda! Così mangi buono buono buono! Ciao, ciao! Ciao!